... ... Chiunque mi ostacoli mentre eseguo questo incarico, è già morto. La stagione della caccia è iniziata. Mi insegnerò ad aver paura di me. ... ... No! Vediamo fin dove facciamo volare questa testa. Ah! Posso schiacciare sette come te in un sol colpo. E' tutta questione di disciplina. Ehi tu, torna in riga. Avanti, atti! Muoverci! Guarda! Avanti! Sì, ora! Grazie a tutti. Ah, se ne stanno risieduti a far niente Vedrai un primo risultato molto presto. Non so neppure io. Perché lo faccio. Non so neppure io. Non so neppure io. Non so neppure io. Non posso portarmi a spasso altra roba inutile. Non so neppure io. 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 Evidentemente questo incarico richiede l'uso della forza brutta. Non so neppure io. 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 Corri più forte che puoi! Evidentemente questo incarico richiede l'uso della forza bruta. Lo accetto. Corri più forte che puoi! Oh, che... oh Se continui a raccogliere ogni singola cosa che trovi in giro, a un certo punto lo zaino traboccherà. Grazie per la visione!